A me pare che, come già Meli e Manconi sottolineavano, ci sono degli atti, c'è una scansione dei fatti che è incredibile. Io non sto discutendo qui l'azione del ministro Piantedosi in generale rispetto alla lotta alle mafie, assolutamente. Dico solo che, ribadisco, siamo di fronte a un sindaco, un'amministrazione comunale il cui operato nell'azione antimafiosa è dimostrato da 19 Costituzioni e parte civili, da una sottolineatura perfino del procuratore che ha speso parole importanti rispetto al ruolo svolto dall'amministrazione comunale nella lotta alle mafie. Ci siamo di fronte a questo, non è che siamo di fronte ad altro. C'è un'inchiesta significativa, l'inchiesta ovviamente è straordinariamente rilevante che vada avanti e essa è il luogo che determina le responsabilità. Ad oggi De Caro, sottolineo, non è minimamente indagato, anzi è sottoscorta per le minacce dai mafiosi che ha ricevuto e c'è stato questo intervento da parte di esponenti politici della destra che è stato incredibilmente raccolto dal ministro dell'interno, volto semplicemente a far circolare un sospetto e a macchiare l'immagine, è inutile che ci giriamo attorno. E la scansione degli avvenimenti a poche settimane dallo scioglimento del Comune già previsto, del Consiglio Comunale, già previsto in ragione del fatto che ci saranno le elezioni o dovrebbero esserci, tutto già previsto, questo tipo di azione è fatta solo per ristillare un po' di veleno e per macchiare un'immagine molto forte di uno dei sindaci più popolari d'Italia. Allora dire, perché si sbaglia? Parli il teplo, sembra proprio parli il.